Ciao a tutti, ciao Adam, siamo qui con Adam Begno. Adam è un giornalista, è un esperto di ciclismo, ha un podcast che si chiama Ciclo Podcast, è il primo podcast slovaco dedicato al ciclismo ed è un piacere averti qui. Ciao Adam, benvenuto. Ciao a tutti, grazie. C'è Attila Walter, Maglia Rosa, un grande spola di ciclismo ungherese. Qual è un tuo commento a caldo? Che ne pensi? All'inizio, scusate il mio italiano, è lontano dal perfetto. Sì, questa è una cosa incredibile per il ciclismo ungherese, penso, perché anche io, come slovacco, sono contento con questo risultato perché è incredibile che un ragazzo così giovane dall'Ungheria fa risultati questi. Sì, portare Maglia Rosa è un onore per ogni ciclista e anche Ungheria non è un paese in cui è il ciclismo, il sport numero uno. Una grande tradizione. Sì, non ha una tradizione grande e anche questo significa che è un successo grande. Sì, sono contento anche per Attila Walter perché lui è cresciuto, anche continuale dal livello continentale, che ha fatto la stagione scorsa nel Vrautur. Adesso corre per una squadra francese, Gruppa Maiev Dejet. Sì, lui ha un futuro grande e questo risultato è una sorpresa, ma non è di niente. È una cosa importante, è una sorpresa o non è del tutto inaspettato? Ci si aspettava qualcosa, già l'anno scorso si era comportato bene al giro, giusto? Sì, sì, lui ha fatto anche buoni risultati l'ultimo anno, ha vinto Tour de Ungheria, un giro di Ungheria e per questo non è un ragazzo senza risultati, ma sì, questo giro d'Italia è un altro mondo, sì, è un grande giro. A che si devono questi risultati? Cioè c'è tutto un movimento dietro Attila Walter o è stato un esploit particolare? Perché il padre è un ex campione di ciclismo, ha vinto 27 titoli ungheresi, Tibor Walter, quindi il padre lo ha seguito e lo ha cresciuto, però è anche vero che l'Ungheria sta investendo molto, sia come grandi eventi, il Tour d'Angry per esempio è già una cosa importante, credo, per il movimento, ma anche nelle giovanili per i settori sportivi, sta investendo molto il governo ungherese, con polemiche o meno, ma insomma c'è un movimento dietro, è l'inizio di un grande movimento oppure è un esploit momentaneo, secondo te? Sì, è così, anche ho parlato di questo con il mio conosciuto che ha allenato Attila Walter tre anni fa in questa squadra Panon Cycling Team e hanno partecipato nel Tour di Slovacchia e sì, ho parlato di questo con lei e con lui e mi ha detto perché gli ho chiesto di grande partenza in Budapest che era pianificata l'anno scorso per giro, ma sì, a causa di Covid non c'è più stato non era affatto, ma mi ha detto che la situazione nel ciclismo ungherese non è così rosa, come la maglia Sì, questo è solo un modo come fa la propagazione del paese ma non il sport in generale Sì, tradurre queste parole che la qualità del ciclismo ungherese non è così grande Nell'altezza di questi Sì, anche il ciclismo sviluppa e diventa un sport più popolare ma è lontano dal calcio e non solo gli altri sport ma sì, è bene vedere che anche i ciclisti dal paese con una tradizione così grande del ciclismo possono fare i risultati come portare maglia rosa è una cosa grande Forse sono anche nuove forze al ciclismo dell'Europa centrale Nel senso, tu sei slovacco voi avete un grandissimo campione slovacco Peter Sagan che è anche un po' italiano parla anche italiano però forse non c'è poi questo movimento importante dietro Peter Sagan che ormai non è nei suoi anni migliori della carriera L'anno scorso si è anche ritirata dal ciclismo la ZZZ la CCC in italiano, la squadra, lo sponsor polacco una squadra che aveva molti atleti dell'est tra le sue fila però al contro per esempio la Slovenia due grandissimi campioni ormai Fogacar e Roglic quindi forse anche quest'Ungheria che si aggiunge dà un po' di respiro in più al ciclismo dell'Europa centrale che è anche una cosa bella perché rende più vario pinto dà più sfogo al movimento europeo in generale la vivete così anche come un movimento regionale anche Sì sì, questa è anche una cosa che succede anche adesso nel mondo di ciclismo che il ciclismo non è più una cosa dei paesi o dei paesi tradizionali come Francia, Spagna, Italia ma anche gli altri paesi diventano grande quando si tocca al ciclismo come Slovenia adesso questo è un paese di due milioni abituati abitanti sì, è incredibile che hanno due grandi corridori per i grandi giri Roglic e Pogacar ma anche quando parliamo di Attila Walter lui è un ragazzo con futuro come slovacco posso solo invidiare ungheresi che hanno questo talento perché sì, in Slovacchia abbiamo Peter Sagan ma dopo lui non c'è un talento di questa qualità sì, c'è un buco dopo Sagan sì, vediamo quando si sviluppa questa situazione senza senza futuro chiaro ma sì, anche questa questa è una parte dello sport che niente è sicuro e anche magari semplicemente un ciclo ora sono spuntati Walter Pogacar Roglic magari il prossimo Sagan verrà molto presto senti tecnicamente come lo descriveresti è un uomo da corsa a tappe ovviamente ma è uno scalatore un ciclista completo in generale possiamo definirlo così sì è un scalatore buono e sì anche ha ha provato che sì anche prima tappa era la cronometro è andato bene e sì l'ha fatto bene l'ha fatta bene senti ecco una curiosità appunto ha dimostrato anche ieri un un buon scalatore però com'è è possibile diventare bravi scalatori senza le montagne Attila Walter si è è nato qui vicino Budapest l'Ungheria la montagna più alta la sua montagna più alta è alta 1014 metri è la sua colline di 500 metri più o meno è nato a Cioemor e si è allenato lì è cresciuto con le mountain bike e poi è appunto è diventato ciclista professionista quindi è possibile diventare grandi scalatori anche con colline e non con le Alpi o le Dolomiti sì ci sono esercizi è questo è così ma anche ci sono buoni scalatori che hanno cresciuto senza senza montagne ma è è problema sì anche quando quando un ragazzo che che non ha questa possibilità andare in bici nelle montagne ogni giorno e sì dopo deve deve riuscire andare nell'allenamento tipo di training camp con la squadra ma sì non è non è così facile per esempio i ciclisti che hanno opportunità correre regolarmente nelle montagne hanno più probabilità di diventare scalatori buoni ma anche questo non c'è non c'è regola è individuale ok la persona senti come qual è il tuo pronostico come come lo vedi nelle prossime due settimane di giro può arrivare a può concludere il giro tra i primi dieci può vincere il giro può avrà la maggiorosa per tanti giorni cosa cosa pensi questo sarà interessante perché sì Adam Sabo questo questo ragazzo chi era un allenatore di Attila Walter mi ha detto che hanno parlato insieme non so due tre settimane fa e gli ha detto che la forma di Attila Walter potrebbe potrebbe culminare nella terza settimana e questo è una cosa interessante perché questo può significare che la prestazione si migliorerà ma sì lui è un ragazzo giovane e sì anche non ha così non ha così esperienza sì ma anche adesso c'è una esperienza nuova portare maglia rosa e anche c'è opportunità per maglia bianca ma anche c'è un avversario grande Renko Evenepu che è anche un corridore che ha opportunità portare anche maglia rosa e con questo anche maglia bianca ma penso che che primi dieci primi primi venti posizioni sono realistiche sì anche lui ha detto che vuole godersi questa maglia sì è un tempo per lui sì è incredibile senti un'ultima domanda volevo chiedere cosa ne pensi del del giro d'Italia nel senso forse il tour de france è una corsa a tappe con più seguito più soldi con credo sia il terzo evento sportivo dell'anno per televisioni collegate insomma ha dei numeri eccezionali come vedete voi come vedi tu il giro rispetto al tour nel senso visto dall'Europa centrale ha comunque un suo fascino il giro d'Italia o è passiamo su due livelli diversi sono due cose diverse il giro e il tour per me il giro una gara più bella dell'anno perché l'Italia mi è simpatica e anche amo questa cultura anche il ciclismo italiano ha grande tradizione ma anche come gli organizzatori dicono è una gara più dura nel paese più bella sì ma penso che il giro d'Italia è una gara speciale perché si svolge in maggio quando i ciclisti entrano nelle Alpi o i Dolomiti non è sicuro niente anche il tempo questa incertezza sì non è è possibile che anche il neve farà la sua la sua ruola e anche abbiamo visto che che due tappe molto dure erano erano corse sotto il piove sì questa è anche una cosa che 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 non è non è facile per i ciclisti perché per esempio quando questo compriamo con il tour durante il tour c'è il sole tutto il tempo ma 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 questo questo non è sicuro durante il giro e questo mi piace che che non non è solo solo di prestazione ma ma anche i corridori possono essere tanto duri fare fare il migliore per 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 vincere tappe o anche classifica generale e poi l'Italia anche gli appennini no vedi la tappa di ieri era la sesta tappa comunque siamo sono le prime settimane ci sono già tappe così ondulate con queste montagne così avvincenti è stato forse più raro vedere al tour subito questi attacchi o queste questi momenti di classifica che si devono comunque dar da fare per mantenere la testa mantenere il primato com'è la tappa di oggi che può succedere oggi oggi tutti dicono che vince Sagan ok allora vince la Sagan sì questo c'è una tappa dedicata per Sagan questo finale è tipo chi è capace di vincere e battere gli altri ma penso penso che è possibile che Sagan vincerà ma anche ci sono tanti velocisti di qualità come come Juven come Viviani come Merlier come Krunewagen non è sicuro che Sagan vincerà non è automatico anche sono gli altri che vogliono vincere la tappa in bocca al lupo comunque a Sagan grazie 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 mille Adam per il tuo tempo e per le tue parole grazie ancora grazie grazie ciao ciao